Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male, ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Grazie. Dispose Gesù, il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto, perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse, dunque tu sei re, dispose Gesù, tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, gli dice Pilato, che cos'è la verità? Gesù doveva essere veramente finito, e così i soldati rimediano. E' un'altra cosa più importante, tutta la ricerca è male, la voce che pria, sono il suo destino. Uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva, padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Uno dei malfattori atteso alla voce lo insultava, non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. L'altro invece lo rimproverava, dicendo, non hai alcun timore. di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena, muovi giustamente. perché... ... ... ...